Il Buddha, per parlare di un altro, le religioni sono sempre comunque dannose, perché di questo penso che le chiese di per se stesso siano un danno, le chiese di per se stesso sono sempre qualche cosa che secondo me svia l'uomo dal suo farsi divino, quindi lo stesso Buddha comunque ridere i suoi discepoli perché piangono mentre lui sta morendo perché lo credevano immortale, e il Buddha praticamente li piglia in giro, e anche questo mi sembra così, abbastanza così. Poi un'altra cosa, che è sempre molto singolare di come ti vengono girate queste cose, la chiesa da tempo è contro, e lo dicono per televisione, è contro l'astrologia, ed è contro l'astrologia proprio in maniera così, questo non è contro ai maghi, o ai ciarlattani, o a questa gente qua, lo dicono a parole, poi non è che gliene freghi più di tanto, ma è contro l'astrologia. Bene, lo stesso Vangelo e prima di esso le scritture smentiscono questo perché i tre magi, Gaspare, Melchioro e Pallazzare, non erano tre Iupis dell'Anticristo, erano tre studiosi, delle stelle principalmente, erano saggi. Quando queste persone vanno da Erode a chiedere notizie su questo bambino, ed Erode era stato avvisato da una profezia, ve lo ricordate? Che sarebbe diventato re del mondo questo bambino? Sì, vabbè. Beh, per carità, ognuno dice. Però i tre re magi, lui dice, come mai cercate questo bambino? E i re magi dicono, abbiamo visto in cielo la sua stella. Sì. E non era mica la stella di Negroni quella del Salame, no? Quindi vuol dire che queste persone studiavano le stelle, avevano visto delle coincidenze particolari e andavano a cercare la persona, in questo caso era Gesù, a cui questa stella, questo evento era legato. Eh, ma Matteo aveva ben chiaro il suo mondo, eh. La Madonna. No, Matteo. Matteo conosceva bene il suo mondo. Perché non bisogna dimenticarsi che Matteo è un esattore delle tasse. Lui fa discendere Gesù da Davide, lui è che fa genealogia. Chiaramente, ma voglio dire, non bisogna dimenticarsi che il Vangelo di Matteo è stato scritto da un agente delle tasse. Sì, e per una comunità interna, per una setta interna. E poi che comunque i Vangeli sono stati scelti, perché Marco per esempio è evangelista ma non era apostolo e questo nessuno lo sa. Sì, e fu cacciato via da Paolo e nessuno ha mai detto perché. Come? È stato cacciato via da Paolo ed è andato a seguito di Pietro e nessuno ha mai detto perché. A parte il fatto che se vogliamo dirselo fra di noi, il vero piazzista del cristianesimo di Gesù Cristo è stato proprio San Paolo, perché se non ci fosse stato lui... Grazie a Luca. Certo. Perché il vero genio era Luca, lui era un organizzatore, Paolo. Probabilmente, diciamo che Luca poteva essere l'imprenditore dei quattro evangelisti. Esatto. L'uomo di marketing dei quattro evangelisti. E poi abbiamo Matteo che chiaramente è un esattore delle tasse e Giovanni che, diciamo, è il più, non dico il più furbacchione, ma quello che spinge di più per il riconoscimento della divinità di Cristo, no? E' quello che poi la impone. Ecco perché poi il Vangelo di Giovanni probabilmente è quello più... Il Vangelo di Giovanni deve combattere l'ognosticismo, deve combattere il Vangelo di Tommaso. Infatti, oltretutto, il Vangelo di Giovanni è quello che è sempre stato più usato come ariete dalla Chiesa, nei confronti dei Vangeli apocrifi, che non sono per questo meno validi degli altri. No, no, ma esiste un gioco di potere molto preciso. Certo, perché i quattro Vangeli sono stati selezionati. È chiaro. E questo la gente non lo sa e la Chiesa non lo dice. Comunque sul discorso dell'astrologia abbiamo ben da dire... Sì, ma adesso ho un appunto che mi è arrivato in questo momento. Te lo leggerò per radio. Certo. E ricordiamoci comunque che anche Gesù ha detto le sue bugie. Un'altra cosa, però poi finisco, scusatemi. Sì? No, no. Ecco. Siccome praticamente lo si considerava onnipotente, ecco, lui ha due atteggiamenti perlomeno che non sono molto molto umani. Sì. Uno è quando praticamente scaccia i demoni dal corpo di un disgraziato e li manda dentro nei maiali. Sì, ma questo mi ha già parlato Francesco abbondantemente. Appunto, i poveri Cristi cosa c'entravano loro? Che poi i maiali, fra gli ebrei, non si sa bene cosa si facessero. Ecco. Secondo, secondo, c'era il discorso del fico. Cioè, il fico non dava frutti perché non era stagione. E' un anno che mi sto scannando, c'è una questione del fico. Ah sì, ecco. Sì? E anche questo non è un atteggiamento dei più... Ah vabbè. Adesso, se sei inipotente, sei figlio di Dio, libera al proveraccio e basta, no? Esatto. Ecco, tutto qua. Perfetto. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Vediamo un'altra... Sì, beh, ricordo se non un telefono che è 049 700 700. Pronto? Ciao, sono Simonetta Dioza. Ciao, Simonetta. Ciao. Senti, io vorrei fare un distinzione. C'è l'astrologia e l'astronomia. Una è lo studio dei pianeti, che è l'astronomia. L'astrologia è lo studio dell'influenza che può avere sul uomo il discorso planetario. Quindi la Chiesa non è contro l'astronomia, ma è contro l'astrologia. Cioè, sul discorso degli oroscopi, eccetera, eccetera. Cioè, la Chiesa dice, non dovete stare lì a guardare l'oroscopo ogni mattina, farvi leggere la mano, perché siete voi che vi create il destino, non dovete essere sottoposti a quello che vi dicono le cartomanti, eccetera. Conferisci su questo? Ti lascio dire quello che vuoi. No, cioè, io volevo precisare questa cosa. Non è che io difenda la Chiesa a sparatrata, però una cosa è l'astronomia. Beh, è meglio ascoltare un oroscopo che ascoltare il prete in Chiesa. Scusa, non sento. È meglio ascoltare un oroscopo che non il prete in Chiesa. Beh, va bene, su questo comunque è tutto opinabile. Come opinabile? L'astronomia è l'astronomia. Sì, sì, ma le cose sono molto più legate di quanto pensi, eh? Infatti tutta la scienza, tutta la scienza è un'altra cosa, cioè non è che uno possa dire i Re Magi hanno seguito l'astrologia, hanno studiato l'astrologia. No, ma infatti hanno seguito la bottiglia più che l'astrologia. Ma scusa, ti sento poco. Sì, ma infatti ci sentiamo abbastanza poco. Sì. Comunque, dì pure quello che devi dire, non ti ascoltiamo. Niente, dopo così una riflessione sentendo parlare di quello che dici, no? Quando parli che l'uomo di Dio verrà sulla Terra prima che finisca questa generazione, non è che si possa intendere, per esempio, questo ciclo di generazione, di sviluppo dell'uomo come essere umano, cioè nel senso l'evoluzione biologica che ha avuto a livello? Queste sono le cazzate che vanno in giro per salvare il salvabile. L'importante è il metodo in ginocchio che non si può difendere. Adesso è... Ma vale per sempre, vale per qualsiasi cosa. Cioè, siccome, per esempio, ho sentito adesso che i più, no? I più cattivi, come si può dire, i più pericolosi sono i testimoni di Geova, no? No, no. No, no, è il Papa, la Chiesa Cattolica. Va bene. No, siccome i testimoni di Geova, ogni tanto oggi, se ho l'occasione, ci parlo assieme, no? Loro predicano un regno praticamente di vita migliore, no? Quello che praticamente doveva essere stato creato dall'uomo. Non è che dicono che ci sarà la fine del mondo, ma ci sarà la fine di questo sistema di cose. Per cui, quando si parla di questo regno, si parla che l'uomo praticamente, penso che cade sul discorso biologico. Cioè, ci sarà una disfatta dell'uomo a livello proprio... Ciao, grazie. Senti, Simonetta, qua non possiamo permetterci l'uso di interpretare. Noi, quando parliamo di Gesù di Nazareth, noi parliamo dell'essere assoluto di quello che si spaccia per Dio creatore, figlio del Dio creatore, padrone del mondo, che sa tutto, che la sapienza in persona. Questo lo dicono i Vangeli. Per cui è inutile giocare al gioco dei bussolotti, al gioco delle interpretazioni. Lui deve sapere esattamente cosa dice, perché se parla Socrate, so che ha parlato Socrate, un uomo intelligente, un uomo più stimabile, però è un uomo. Ma qui l'hanno spacciato come Dio creatore, per cui non si può interpretare. Ha detto stronzate e basta. Sì, ma infatti, esatto per fare un esempio di come viene falsificata la storia, ad esempio noi accettiamo tranquillamente... Perdonami, sono Flavio, non voglio interferire. Solo una precisazione, solo per rispondere a Simonetta, ma non è una polemica. Io non ho parlato di astronomia, ho parlato chiaramente di astrologia. Poi, che una volta chi studiava le stelle, comunque era astronomo e astrologo, era esattamente la stessa cosa. Le due cose non si dividevano e non si sono divise, non si sono divise, che dopo Galileo, che guarda caso, proprio per i suoi studi di astronomia, stava per essere messo a rogo. È vero. Quindi, per cortesia, stiamo un po' attenti di cosa parliamo, perché lo sappiamo di cosa parliamo e facciamo meno. Primo. Secondo, la conoscenza dei re magi era la stessa che ha permesso, esattamente la stessa, va bene, ai babilonesi di fare studi sulle stelle e sugli ziggurat, ai, praticamente, agli ediziani di costruire le piramidi in linea, molto meglio del meridiano di Grinwi, cioè molto prima, con tutta la maggior parte delle terre emerse che ci fossero al mondo e così via. Quindi erano conoscenze che non venivano disgiunte, ma venivano utilizzate, a seconda del caso, proprio in quanto la scienza di allora, per poter dare dei risultati o poter dare delle risposte o d'altre. Ma le due cose non si sono separate fino a Galilei. L'hanno dovuto fare dopo gli astronomi, perché sennò rischiavano di essere ammazzati dalla Chiesa. Vero. Confermo. Una piccola precisazione, perché astronomia vuol dire dare un nome ai pianeti, l'astrologia vuol dire, dal greco vuol dire discorso, seguire quello che le stelle, gli astri ti dicono. E quindi i re magi, dicendo, abbiamo visto la sua stella, hanno seguito quello che la stella ha detto loro su quello che stava venendo. Esatto. Tutto qua, scusami. No, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Capricorno. Oh, e che tipi sono? Oh, lui è il Messia, il re dei giudei. Lo sono tutti i capricorni? No, solo lui. Ah, mi pareva. Se no sarebbero in troppi. Questo è il dialogo nel film Brian di Nazareth. A proposito dell'arrivo dei re magi che poi gli fregano i doni a questa povera donna che è una capanna, poi si sono accorti che quest'altro è nato un po' più distante. Va bene. Detto questo, vai Francesco. Sì, ecco, volevo aggiungere una cosa che può essere interessante. Prendiamo, per esempio, il caso dell'Empio dei testi sacchi della Bibbia. L'Empio della figura di re David, ad esempio, non è dimostrato storicamente che sia esistita, cioè dal punto di vista storico non esiste nessun documento che dimostri che ci fosse questa esistenza di questo re. Cioè, di questo re non si è trovata nessuna documentazione storica, nessuna documentazione archeologica. L'unica documentazione che sembra, secondo interpretazioni, dimostrare la sua esistenza è una stella che hanno scoperto all'inizio di quest'anno in Palestina e che sembra attribuire l'esistenza storica di David. Però, il fatto stesso appunto che i cristiani la utilizzano proprio come dire la Bibbia, come dimostrazione storica delle cose, significa che questo testo va preso così alla lettera, perché appunto non ha nessun ricollegamento storico. Non è nessun documento, cioè non prova neanche l'esistenza di Cristo, però è diventato uno strumento, cioè il racconto è uno strumento di dominio e di conseguenza noi dobbiamo accettarlo così come sta. Non possiamo fare interpretazioni a posteriori dicendo ma si potrebbe intendere in una certa maniera o intendere un'altra cosa. Ad esempio, il re David noi sappiamo che non ha esistito dal punto di vista storico, però dobbiamo accettarne il suo racconto come dimostrazione di atti di criminalità. Ma è lo stesso discorso, vale anche per Mosè, c'era un articolo che non è neanche ritagliato sul Gazzettino questa settimana. In cui si diceva che non era Ramset il re con cui si è scontrato Mosè, ma era Papi un altro re un paio di migliaia di anni prima. Questo è il gioco dei bussolotti in cui delle leggende, delle favole si cerca di dare una veridicità. Tipo, la NASA sicuramente sa che sul monte Ararat c'è l'arca di Noè. Ora, si sa benissimo che questo è un racconto interregionale, interetnico di frequente popolazione. No, ma vorrei aggiungere una cosa, che la CIA ha preso seriamente questa storia, è andata a verificare la Bibbia con le dimensioni delle loro fotografie. Non corrispondono. Cioè, no, no, non c'è vero. Come la Bibbia dice la verità, dicono gli americani hanno preso la Bibbia come documento storico, con le nostre fotografie hanno ricostruito la presunta arca che ci sarebbe, che poi per loro pensano che sia una roccia. Ora, gli analisti della CIA hanno detto che chiaramente fa, la dimensione di un presunto oggetto che si troverebbe sul monte Ararat non corrisponde per nulla alla descrizione fatta dalla Bibbia. Di conseguenza non può essere l'arca, che tra l'arca non è mai esistita perché è una sorta buffla dei cristiani, perciò, vabbè, purtroppo c'è chi ci crede come nelle barzellette e di conseguenza bisogna accettare anche questo. Però questo è uno strumento che loro utilizzano moltissimo proprio per determinare qualsiasi cosa. Un'altra notizia Francesco, sai, non dobbiamo vedere già solo sulle croci, con le croci sopra i monti. Adesso in Cina comincerò a metterci Buddha da 88 metri. Pronto? Pronto? Sono Marco. Ciao Marco. A proposito avete parlato dell'arca di Noè, no? Geograficamente, dove si trovava Noè al momento del deluvio? Cioè, dove viveva? In che regione viveva? Ah, non trovo a dire. E' quello che soviene probabilmente tra i tigri e le uffrate, no? Boh, non so. In quella regione è... Non mi sono mai posto il problema, Marco. Ecco, perché... Comunque, il monte Ararat, da quello che ho capito, io dovrebbe essere fra i curdi e fra i curdi turchi. Sì, è molto più... Per cui al sud della Turchia. E' molto più lontano, dal luogo d'origine. Eh, naturalmente, però, insomma, con il diluvio le acque si sono alzate di molto sopra la terra e quindi avrà giropagato, no, quest'arca. Oddio, adesso non pensate che io quello che dico sono disposto a metterci una mano sul fuoco. Però, sapete perché volevo dire questo? L'altro giorno aiutavo mia figlia a studiare storia e parlavo appunto della regione del Mesopotamia, del Tigre e le uffrate. Erano fiumi che trasportavano parecchie acque. Erano enormi. Erano vicini e probabilmente in quel tempo succedevano delle grosse inondazioni. Per cui due fiumi che si ingrossavano e quando, insomma, superavano gli argini, queste acque, era un diluvio veramente. Esatto. Probabilmente magari un fatto realmente è accaduto, ma che dopo, insomma... Guarda Marco, che è stata ritrovata la stessa storia, no? Sì. La stessa storia di tipo arca, fra i babilonesi, cioè le tavolette di argilla, no? Che hanno trovato negli ultimi 50 anni, c'è la storia tipo arca. Ecco, ne ho saputo ancora che... Se vuoi, io te la... siccome ce l'ho a casa, te lo fuori e te la porto, insomma. Sì, ma nella storia ebraica c'è un mescuglio di... hanno preso un po' da diverse... Sì, dai fenici, dagli egiziani, dai babilonesi. Addirittura la Bibbia, sembra proprio... Io, al giovedì sera, per esempio questa sera, su Rete 9, seguo sempre l'avvocato Vachiega che fa antropologia religiosa, una mezz'oretta, e fa delle spiegazioni ottime a proposito di questi problemi, eccetera, di tutta questa storia antica della Chiesa. ha fatto una trasmissione una sera dove dimostrava proprio che la Bibbia, confrontando alcuni reperti che hanno ritrovato, delle tavolette, eccetera, no? E praticamente la Bibbia quasi quasi sembra una trascrizione da quelle culture, da quelle forme di religione che c'erano in popoli e in civiltà molto superiori a... Sì, ma tanto in peggio però, eh? Sì, sì, dopo naturalmente anche all'interno del popolo ebraico... Beh, erano dei cattivi copisti, copiavano male, deformavano parecchio. Però una cosa vorrei dire, anzi due cose, poi vi saluto. A proposito della Simonetta di prima, mi sembra aver letto da qualche parte, però non ci giuro perché sono stato accusato anche di essere un falsario e di questo mi onoro, perché siccome non ho altri titoli e qualità, ritengo anche le cose negative e le faccio diventare positive. Ognuno si accontenta di quello che ha. Sembra che molti cristiani che avevano aderito al messaggio di Gesù e di San Paolo, che poi insomma ha diffuso nell'Aria, in quell'area oltre alla Palestina, eccetera, la religione cristiana, molti prima di morire si sono allontanati da questa nuova religione perché proprio non si era realizzata quella profezia che dicevate voi che Gesù aveva detto che non passerà questa generazione senza che lui... Ma perché pensi che a me mi abbiano attaccato così quando dicevo che era matto? Ecco, l'ho letto da qualche parte e molti se ne sono andati, non hanno più creduto perché non hanno visto con i loro occhi verarsi questa profezia. Però quello che sottolineava e che mi interessava in quella frase era che loro attendevano più un cambiamento della loro vita quasi materiale, non spirituale. Infatti, ma Gesù promette... guarda che nei Vangeli ufficiali promette solo materialità, non spiritualità. Ecco, quindi loro si aspettavano di migliorare la loro condizione di popolo così insomma povero, sfruttato, oppure che non potevano assolutamente mai migliorare la loro condizione sociale e speravano appunto che in questa profezia di Gesù si realizzasse prima della loro morte questo grosso cambiamento di tipo sociale, economico. Anche mio nonno spessava un cambiamento economico, infatti diceva da venì baffone, ma baffone non arrivava mai. Ma non scriveva mica in cirillico, in greco? No, in italiano scriveva. Ecco, poi un'altra cosa volevo dire. Sarebbe possibile, e adesso mi riferisco direttamente a voi, che voi facciate una trasmissione completamente staccandovi dal discorso Chiesa, Vangelo, eccetera. Non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Cioè voglio dire, ecco, perché vedo che la vostra trasmissione spesso, voi al limite con l'introduzione, eccetera, date un certo tipo di orientamento, un tema, no? Poi invece la gente, purtroppo la maggior parte della gente che vi ascolta non è certamente il 90% pagana, ma ha avuto un'istruzione religiosa, e allora l'apporto della gente e le vostre discussione mira solamente un po' a criticare tutto quello che ha il discorso. È l'unica possibilità che abbiamo per troncargli il legame con quello che è stato instillato in loro, fargli capire che quello è il male, che quello è sbagliato. Vabbè, no, perché non vorrei che magari a lungo andare fosse anche il controproducente per il discorso che volete portare avanti. Cioè, è una sfida che sappiamo che possiamo anche perdere. Vabbè, comunque io, sapete che se arrivano frecce a voi, qualche mezza freccia, qualche pezzo di arco mi arriva in testa anche a me. Grazie. Saluti. Ciao, grazie. Sì, beh, infatti io volevo anche ricordare che questo è l'anniversario, è il primo anno di trasmissione, anzi, entriamo nel secondo... Un anno abbiamo trasmesso, per un anno abbiamo spanso veleno dei demoni e degli dèi da questi microfoni, per un anno vi abbiamo instillato nel cervello le nostre nozioni, per un anno ci avete ascoltato, pensate un po', erano 1500 anni che ciò non avveniva, 1500 anni. No, infatti appunto, questa qua è proprio praticamente l'anniversario di un anno di trasmissione e speriamo appunto che queste trasmissioni possano servire non tanto a noi, servono anche a noi, perché se... Esbocciami, ho scritto due libri io, Francesco, per fare... No, ma intanto per non convincere le persone, ma per attivare i meccanismi mentali che le persone si diventino consci di quello che c'è d'intorno e che cercano di capire con la loro testa senza trovare delle gare a niente. Esatto. Cioè, questo è il nostro scopo, insomma, non è stato di convincere le persone, ma è stato di far capire che le persone hanno gli strumenti per potersi liberare da soli e non hanno bisogno di qualcuno che le venga a liberare. Noi non possiamo convertire nessuno, possiamo soltanto comunicare delle cose. Davanti alla fede e alla violenza noi ci rendiamo sempre, Francesco, non possiamo... Sì, sì, ma infatti noi possiamo, contro la violenza, possiamo solo proporre altre violenze, possiamo solo combattere. Ma possiamo ritirarci, non possiamo fare neanche combattere. Sì, beh, sai, noi abbiamo uno spirito guerriero finché possiamo combattere, combattiamo. Però io volevo rispondere anche all'ascoltatore che diceva perché è entrato in polemica. Non è che noi entriamo in polemica. Nel senso che noi dobbiamo anche rendersi conto che il nostro modo di agire deve intervenire sulla realtà. E purtroppo la realtà, se esiste un inquinamento ambientale, cosa si cerca di fare? Si cerca di disinquinare. Perciò uno cosa deve fare? Non può dire a me piacerebbe un ambiente pulito, bello, mi piacerebbero i parchi, mi piacerebbero avere le acque pulite. Se tutto quanto è inquinato, l'opera che deve fare la persona, si cerca di disinquinare questo qua. Prendiamo il discorso che stanno avvenendo in questi giorni sulla pedofilia che sembra che abbiano scoperto adesso la pedofilia, che tanto ce l'hanno sempre con me. Finché c'è il concetto cristiano, secondo cui... Posso, posso, posso dire una cosa sulla pedofilia? Allora, tanto per dire, io l'ho letto sulla Repubblica, che la persona che ha acceso quel ragazzino per poter fidere alla casa era piena di immagini sacre. Sì, ma infatti... Ecco, ecco, un'altra cosa. Il Vescovo Nonis ha scritto sulla prima pagina del giornale di Vicenza che la Chiesa americana ha comunicato che non risponderà più comunicamente di tutti quanti danni per pedofilia fatti dai propri sacerdoti. Questo cioè, non dire, noi cercheremo di impedire che diventino i propri pedofili, ma non pagheremo più i danni. Cioè, il problema è questo, finché ci sarà un'organizzazione come la Chiesa Cattolica che continua a dire che le persone sono proprietà di un Dio, sono proprietà della Chiesa, sono proprietà di Gesù, che le persone non sono persone, non sono persone e non sono talmente persone, tant'è che vuole considerare la persona l'embrione, però non considera la persona il bambino da rispettare, che è veramente abominevole. finché questi concetti di possesso vengono instillati nelle persone, per cui chiunque si può delegare di essere padrone di qualcuno, chiunque può stuprare il ragazzino perché io sono il padrone, sono l'inviato di Dio, io sono più forte, mi sono quello. Cioè, finché questi concetti, che sono concetti cristiani, sono concetti cattolici, e il cattolicesimo si basa su questo, finché questi concetti non verranno fatti saltare, non si accoglierà che questo modo di pensare, questo modo di esprimersi, è il male, è la perversione fatta a persona, finché non si comincerà a pensare che sono gli adulti che devono essere educati, sono gli adulti che dobbiamo insegnare loro come guardare il mondo, come muoversi, non i bambini, i bambini crescono per immagine, per cui sono gli adulti che devono imparare ad affrontare la vita, bene, finché il concetto di possesso, che il cristianesimo continua a instillare nelle persone con la violenza, perché costringe con la violenza ad essere battezzati, costringe con la violenza, la sentenza di ieri della Corte della Cassazione che dice non potete imporre, non potete imporre a chi non vuole la religione le materie alternative, cazzo, è per uscire dalla violenza che l'organizzazione cattolica impone agli altri di far più fatica, cioè chi non vuole fare la religione cattolica scuola deve far più fatica, che veramente è una violenza immane, è violenza immane che viene fatta ai bambini, a chi non si può difendere, questo è il cattolicesimo, questo è il Gesù di Nazareth, questo è il Dio dei cristiani. Sì, ecco, io volevo appunto, beh no, se non sono telefonate, casomai rispondo dopo. Sì, ciao. Ciao Claudio, ciao, buona giornata a tutti voi e buona giornata. Grazie. Grazie. Allora, se mi permettete, dagli ultimi avvenimenti che si succedono, cosa devo fare? Niente, parla pure. Parlo. Allora, dagli ultimi fatti, gli ultimi avvenimenti che si succedono nell'area islamica, si comprende chiaramente che vi è una volontà politica che si avvale delle fasce più diseredate alle periferie delle grandi città o ai margini della società e è in atto, vediamo che è in atto uno scontro violentissimo tra laizi e fondamentalisti che non sarà facilmente risolvibile perché se si tratta di una torta da dividere, insomma, si mettono d'accordo prima o poi, però senza molte difficoltà, ma trattandosi di scontro ideologico non sarà una cosa così semplice. Vi sentite? Sì, sì, sentiamo benissimo. D'altra parte, i fondamentalisti si fanno interpreti dei bisogni e delle necessità delle popolazioni più povere, più diseredate e per contro, anche perché nel Corano mi sembra che vada predicato questo fatto dell'uguaglianza della comunità, eccetera, e per contro abbiamo degli stati laizi che più delle volte sono corrotti, più delle volte corrotti e non curanti dei bisogni di tutta questa massa di povera gente. Quello che, per esempio, è successo al Cairo è, secondo me, il voler tagliare i viveri con l'entrata del turismo, voce fondamentale nell'economia esiziana, nello Stato. Sì, e dopo anche la gente che sta male. Io vorrei chiedere a voi, la vostra opinione, sul Vaticano, che posizione assume o ha assunto a fronte di questi fatti che succedono in Turchia adesso, anche Algeria, Egitto, insomma in tutto. Poi volevo dire anche questo, qualche mese fa leggevo che a Bologna era stata scoperta una base, una centrale di questi fondamentalisti e hanno trovato armi e cose di questo tipo. Ecco, io volevo chiedere se, come la pensate voi per tutto questo, e se il Vaticano ha assunto una qualche posizione. Come no? Ha una posizione chiarissima. Siccome non sento niente. Beh, per fare un esempio, quando c'è stata la... No, non sento niente. Ti parliamo per radio adesso. Allora, io metto, mi sentite? Io metto giù. D'accordo. Ciao. Ciao, e a risentirci dopo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vabbè, a parte, partiamo dall'ultima cosa, cioè in Italia non si è tratta solo la base di gruppi di fondamentalisti algerini. Si è arrivato anche che pubblicamente, ad esempio, alcune comunità islamiche hanno già chiesto che le donne vengano fotografate strumenti di identità con il velo. E già questo dimostra dove si va ad arrivare. Il collegamento del Vaticano, con quanto riguarda l'Islam, hanno scelto di allearsi sempre con le posizioni più fondamentaliste. Abbiamo avuto questi due esempi pubblici di alleanza tra il Vaticano e i fondamentalisti. Con la conferenza femminile di Pechino, in cui il Vaticano si è schierato con la parte del mondo arabo che andava contro le donne, e con la conferenza demografica del Cairo, in cui i paesi arabi erano contrari all'uso di preservativi e di una campagna demografica, e il Vaticano li ha appoggiati. Si potevano aggiungere anche tutta una serie di altre considerazioni. Il fondamentalismo ha successo non tanto perché fa presa sulla povertà della gente, ma perché ha i mezzi per rispondere alla povertà della gente. Questi mezzi non sono dati dalla loro ricchezza. Se prendiamo il caso, ad esempio, del FIS algerlino, cioè del fronte islamico di salvezza, perché il FIS algerlino aveva vinto le elezioni? Perché di fronte a uno stato degradato, a uno stato di gente che era corrotta sostanzialmente, il FIS algerlino ha avuto i soldi dall'Arabia Saudita e ha avuto i soldi dall'Iran. Di conseguenza con questi soldi, venuti dal nulla, regalati, ha avuto i mezzi economici per poter comprare il pane, per creare le scuole, creare gli ospedali islamici, e di conseguenza la gente di fronte alla povertà ha trovato qualcuno che materialmente poteva rispondere. Di conseguenza queste persone sono andate così. Ad esempio in Liboro, dove esistono, ad esempio a Balbek, dove ci sono gli insediamenti, ad esempio, del partito di Hamas, del partito di Dio. Perché la gente sostiene questi gruppi? Perché con i finanziamenti iraniani hanno la possibilità di costruire scuole, chiese, hanno la possibilità di costruire ospedali, cioè di far fronte alle necessità economiche. Perché ad esempio in Grecia ci sono problemi con la comunità musulmane che non c'erano mai stati? Perché l'Arabia Saudita sta finanziando le comunità musulmane greche per acquistare terreni in maniera tale da creare un possedimento economico e questo qui possa creare delle tensioni. Cioè, non è detto che il fondamentalismo vada avanti soltanto perché ha la forza delle idee. Il fondamentalismo va avanti nel mondo arabo perché esiste un governo corrotto, con l'appoggio occidentale, e va avanti perché ha i mezzi economici dati dall'Arabia Saudita e da altri paesi come l'Iran, che permette a tutti quanti i gruppi islamici di avere un finanziamento e su questo qua poter intervenire sulla poportà della gente. Cioè, la gente non va con loro per convenzione ideologica o convenzione religiosa, ma va perché hanno la possibilità di venire in conto a delle necessità economiche immediate. E di conseguenza, avendo questa possibilità di aggregazione, il Vaticano ha sempre scelto di essere la parte più restrittiva dell'Islam. Il Vaticano appoggia tutto il terrorismo fatto nei confronti dei poveri e invece combatte tutto il terrorismo fatto nei confronti dei potenti e dei ricchi. Sì, ecco, perciò anche lo scontro che esiste all'interno... Mi senti? Sei Claudio? Sì. Volevo parlare con te un momento, fate una domanda. Va beh. Sì, sì. Ecco. Perciò il problema appunto del fondamentalismo si pone sia perché appunto c'è un forte attacco da parte appunto ideologico, ma questo non è sufficiente a dimostrare, perché anche ad esempio all'interno dell'Islam esistono delle realtà che hanno dei ricollegamenti di tipo diverso, però il fatto che queste realtà più dure, più cattive, fondamentaliste, hanno la possibilità economica di incidere, va a portare una situazione di tensione. Finché ad esempio noi non capiremo che i popoli arabi, che poi non sono popoli omogenei, perché ad esempio in Algeria esiste un grossissimo problema etnico che è appunto tra i berberi, che pur essendo musulmani, loro non accettano appunto la dominazione assurda dell'Islam, tanto per dire il vero alle donne. Ad esempio i berberi si riberano moltissimo al fondamentalismo islamico, perché dicono le nostre donne, pur essendo islamici, non hanno mai avuto il vero e non lo porteranno mai. Difatti il FIS attacca moltissimo tutte le manifestazioni culturali, ad esempio dei berberi, perché i propri berberi rifiutano, pur essendo islamici, rifiutano appunto la dominazione islamica fondamentalista. Ad esempio al Cairo esistono addirittura delle moschee che sono dedicate alle donne, perché è discendente da Mahometto. Queste non hanno la possibilità di manifestarsi, di realizzarsi, perché ne mancano dei mezzi economici. Esistono ad esempio anche altre situazioni religiose all'interno del mondo arabo. Ad esempio in Iraq esistono delle minoranze che non sono addirittura neanche islamiche e poi sopravvivono, perché per fortuna o sfortuna loro in Iraq esiste un governo che era di tendenza socialista, che era appunto quello all'inizio del partito Ba'at, che era all'inizio della dominazione di Saddam Hussein. In Siria esistono delle minoranze che sono quasi del livello pagano, che è l'assette islamica degli al-Hawiti. Questo danno la possibilità, perché sono collegate con lo Stato, di permettere una certa libertà religiosa delle altre popolazioni. Infatti esistono le popolazioni, appunto, tipo i drusi, che hanno tutta una loro forma di religiosità, di tutta una pagana. Questo proprio avviene perché lo Stato, pur essendo uno Stato religioso, appartiene a un gruppo che è diverso dal gruppo dominante musulmano. Avendo in mano lo Stato, riesce a creare una situazione economica che permette alla gente di avere un minimo di possibilità di sopravvivenza. Allora, quando noi riusciremo a aiutare veramente i popoli arabi, i popoli musulmani, a essere indipendenti, a capire che devono costruire la loro ricchezza, non per regalo, ma avvenendogli loro i mezzi. Cioè, finché loro dovranno sempre dipendere da qualcuno, finché dipenderanno da noi dal punto di vista economico, perché li compriamo o il metano, o il petrolio, e non potranno produrre la loro ricchezza. Quando, mancando di agricoltura, dovranno acquistare le cose da noi, stanno sempre abituati, purtroppo, a una condizione di povertà e di bisogno di dipendenza. E finché noi manteremo questa situazione di dipendenza nei loro confronti, cioè finché la andremo a considerare una popolazione di sottosviluppati, di incapaci di realizzare qualcosa, loro saranno sempre costretti a seguire qualcosa. Cioè, a seguire qualcosa. Certo che noi occidentali non arriveremo mai ad offrire la possibilità di liberazione economica a loro. Di conseguenza, gli unici che la possono dare sono i fondamentalisti. Per questo il problema è grave, proprio perché c'è la volontà da parte di noi, diciamo, che chiamiamo occidentali, di non intervenire su questo meccanismo. Cioè, a noi ci va bene che loro rimangano poveri, e di conseguenza a noi ci va bene che siano un mercato, che siano gente da sfruttare, che si vendono il petrolio a prezzi bassissimi. E di conseguenza a noi possiamo permettere, a noi ci va bene che ci siano dei governi corrotti, dei governi dittatoriali, e di conseguenza la gente andrà a rivolgersi a chi dà delle risposte immediate. Ed è questo il problema del ricorso islano, che è così successo nei paesi arabi. Però è la cosa che si potrebbe benissimo invertire, se ci fosse la volontà di farlo. Posso mettere un particolare di Francesca? Ho visto questa telefonata qua. Niente. A tutti quelli che hanno dei problemi con genitori e figli a scuola, dove non fanno religione e qualcuno interferisce. Ricordatevi bene che l'insegnante di religione non ha nessun diritto sul bambino che non frequenta l'ora di religione. Non può emettere giudizi e non può dire assolutamente niente. Se l'insegnante di religione cerca di interferire sul bambino che non ha scelto religione, bisogna fare denuncia immediata al preside e o denuncia anche ai carabinieri. Cioè, purtroppo, siamo in un momento in cui i cattolici non rispettano le scelte specialmente all'interno dell'insegnamento dei ragazzi e delle famiglie. Molte famiglie sono costrette a mandare i figli a fare religione perché vengono ricattate e ricattate pesantemente in tutti quelli che sono i diritti. Ricordatevi bene che l'insegnante non ha nessun diritto, l'insegnante di religione, di interferire. È chiaro che però, siccome molte cose sono soggettive, sono soggettivate un ragazzo che non va molto bene e che non fa religione, se ha il preside che invece è religioso, eccetera, può essere svantaggiato. Chiaramente gli mettono i bastoni fra le ruote. Non potrebbe parlare neanche il preside, veramente. Comunque il discorso è abbastanza delicato in questo momento perché siamo una svolta, no Francesco? Sì, come i fatti. Stiamo per il riconoscimento che la religione non ha valore, però chiaramente prima di morire questi morderanno forti. Basta pensare ad esempio a tutta la lotta che stanno facendo per avere i soldi dello Stato per finanziare la scuola privata cattolica perché sostanzialmente il finanziamento della scuola privata andrebbe soltanto a benefici dei cattolici e non a benefici di tutti. Già la nostra Costituzione vieta il finanziamento della scuola privata e pur di avere il potere sono disposti a passare sopra qualsiasi norma. Finché le norme sono nocive per gli altri o dannose per gli altri vanno rispettate. Quando sono nocive per loro non possono essere rispettate. Basta pensare alla campagna che fanno sul discorso dell'aborto, cioè nel senso che noi abbiamo uno Stato in cui tutti devono obbedienza tranne anche i cattolici. Esiste una legge dello Stato a favore dell'aborto e i cattolici possono obbiettare la legge dello Stato. Sì, che parte di questo comunque chiese è veramente allucinante. È allucinante nel senso che uno ha il diritto di scegliere le sue cose, non ha il diritto di imporre agli altri le proprie cose. Però questo concetto ai cattolici non è che gli entra in testa. Secondo noi parliamo di male, questo intendiamo per male. Cioè il cattolicesimo, il cristianesimo è il male come ideologia, come pensiero, proprio come pensiero divino, come pensiero del figlio di Dio. E noi non possiamo purtroppo fare nessun tipo di costruzione del paganesimo senza l'identificazione del male. Ma no l'identificazione così perché tanto noi ne vogliamo parlare perché ci piace parlarne, ma perché è una cosa di pelle, una cosa che entra nelle viscere. Io sono stato a mostrare il libro a Pordenone, no Francesco, e c'è una frase bellissima di uno, non so di chi fosse, no? Cioè che le parole non sono tutti uguali. Alcuni le tirano fuori dalla giacca del soprabito, no? E altri invece le tirano fuori dalle viscere. Per cui per noi il male, il cattolicesimo, appartiene a una cosa veramente viscerale. Senza la distruzione del male non si può distruggere la miseria, non si può costruire un sistema sociale. Naturalmente siamo sempre cattolici di seguire la loro religione, però a noi ci basterebbe che la loro morale non venisse ad inquinare il sistema sociale, cioè non venisse imposta per legge, questo ci sarebbe sufficiente. Che se poi loro se la vogliono seguire, vabbè, sia roba loro però. Se loro sono masochisti, siano masochisti e nessuno gli vieta di esserlo, solo che non impongono agli altri di esserlo. Se loro vogliono adorare il macellare Sodoma e Gomorra, adorino pure il macellare Sodoma e Gomorra, ma non impongono il macellare Sodoma e Gomorra a chi non lo vuole, e a chi non si può difendere, non lo può identificare, magari con parole dolci, magari dicendo che è buono, che solo Dio è buono, dice quest'altro, ma che deficiente. Ammazzato la gente non si poteva difendere, solo Dio è buono, ma è fuori testa insomma. Ecco, io ho subito che siamo su questo argomento, ho parlato alcune volte del Giubileo. Il Giubileo è uno delle più grandi carnevalate peggiori che si possono fare per l'Italia. Porterà sicuramente anche morti e casomai il motivo non ne andremo a spiegare. Finalmente si è costituita un'organizzazione che purtroppo è soltanto laica ed è soltanto politica, si chiama Osservatorio Laico sul Giubileo. Ecco, questa organizzazione si propone come scopo di controllare un attimino le follie che si faranno a Roma per il Giubileo. Parlo delle follie tipo la costruzione di 50 chiese con un devasto del territorio, con un sacco rispetto per i piani regolatori, per i piani urbanistici e per l'inserimento ambientale e altre cose tipo strade, autostrade, aeroporti, porti e così via. Ecco, chi è interessato a questa attività, tenendo conto che questa è un'iniziativa laica, apartitica, chi è interessato a questa attività di questo Osservatorio può scrivere Osservatorio Laico sul Giubileo, Piazza del Viminale 5 a Roma, il numero telefonico di fax è 064745851, chi vuole il numero di cellulare di Giovanni Negri che è il promotore dell'Osservatorio e ora è Giovanni Negri e il cellulare è 03366663298. Ecco, questa è un'iniziativa a cui hanno aderito già parecchie persone, tanto per dire, per fare alcuni nomi, ha aderito Alberto Ronchei, ha aderito François Revelle, ha aderito Guido Ceronetti e così via. È un'iniziativa che appunto si propone di controllare come andranno spesi i 7 mila miliardi che fino a questo momento sono distanziati per il Giubileo. Il Giubileo lo reputo è una manovra di 4 mila miliardi sulle pensioni e 7 mila miliardi di spesi per il Giubileo. A questo momento non è ancora arrivato il 2000 perché appunto si parla di 7 mila miliardi dati dallo Stato più dopo quelli che erano spesi dai comuni e quelli che verranno a costare, nel senso quello che verrà a costare in corso di viabilità, di pericolo, di circolazione, tantissime cose al di là dello squallore religioso. Ultima telefonata. Pronto? Ciao. Ho sentito un attimo il discorso di... Sì, un attimo. Sono sempre qua che vi scopo. Non c'è un problema. Altro che attimo. Il discorso di Francesco. Aggiungo io, tagliano anche per tagliare... cioè, vogliono tagliare le spese sociali però aumentano di parecchio le spese militari con aerei che poi adesso non servono neanche più a niente. Però ormai hanno deciso così. Ma se possono sempre servire per se l'Albania ci attacca. Sì. Va bene, volevo fare... Ma basta pensare che abbiamo ancora nell'aviazione gli F-104 che si erano chiamati le fabbriche di Vedevi o le barre a volanti. Sì. Tanto per dire una cosa, insomma. Sì, che ormai approfondiremo il discorso alla prossima trasmissione se mi permettete. Sì, nessun problema. Sì, grazie. Ciao, ciao. Allora, io ricordo appunto un'altra volta osservatorio laico sul Giubileo piazza del Viminale 5 a Roma telefono e fax è 064745851 è un'iniziativa che per me va incoraggiata e va portata avanti. Al limite la prossima volta se avrò tempo vorrei sviluppare un attimino il problema collegato alla privacy e alle parrocchie perché appunto con la nuova normativa sulla privacy si potrebbero combattere alcune battaglie di libertà contro le parrocchie che sono degli agenti abbastanza pericolosi sul territorio. Bene, noi abbiamo finito. Caro Gian, vuoi dire qualcosina prima che chiudiamo? No, non niente, solo che mi è rimasto un bel ricordo e si ritornerò l'anno prossimo. Bene, e a tutti quelli che ci vogliono partecipare noi siamo qui. Ricordiamo che stiamo per organizzare una conferenza a Treviso per il giorno 7 febbraio. È appena bozzato il comunicato vedremo di... Ecco, ricordiamo che fra poco saranno anche le opere di Claudio in edizione economica che stiamo facendo gli ultimi apronti tecnici perciò fra poco saranno disponibili... non vi porteremo più via soldi più di tanto per avere le opere speriamo almeno dai se no... Bene, ricordo che questa trasmissione è magia a Stagoneria Paganesimo io sono Claudio Simeoni via delle Vignole 4 Marghera e vi do l'indirizzo postale dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti che è casella postale 53 Marostica a Vicenza per quanto riguarda l'amico Luigi che mi ha telefonato preoccupato non si preoccupi che ho dato il suo indirizzo il numero di telefono a Francesco e Francesco ti telefonerà immediatamente perché hai già detto che sei sempre disponibile dunque noi chiudiamo qui la trasmissione ci risentiremo la prossima volta continueremo il programma dei pagani sarà un'introduzione sempre che continuerò il discorso sulla tensigrità di Castaneda tanto per chiarire l'importanza della centralità del paganesimo rispetto alla stragoneria cioè rispetto a qualsiasi cosa che può che può portare all'individualità cioè a chiudere l'individuo su se stesso anche se a volte non è possibile fare diversamente chiudiamo qui la trasmissione ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 15 15.15 fino alle ore 16.30 e vi ricordo che io sono ancora in radio fra le 19 e le 20 a leggere il libro dell'anticristo e oggi comincerò a leggere quel lungo capitolo che è il capitolo sull'attenzione che è il capitolo centrale di ogni percorso di stragoneria bene a risentirsi allora alle ore 19 alle ore 19 e a risentare